Io non ci credo che finisco. 25 anni della vita mia ho passato qua dentro. Vanno un po' un attimo indietro. Da lì è partito tutto, no? E' uscito Rititemic, riporto al giorno dei Totti. Quello che è successo dopo era impensabile. Mi chiamo Francesco Dotti. Sto tempo è passato, pure per voi però. Grazie a tutti.